GF VIP7, Oriana su Daniele, questo non viene a darmi neanche un abbraccio. Proseguono gli alti e bassi, all'interno della casa del grande fratello VIP7. Per la coppia composta da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. In seguito all'ennesima discussione con l'imprenditore veneto. La show uger sudamericana sembra averne avuto davvero abbastanza. La venezuelana, infatti, appare desiderosa di ricevere maggiori attenzioni da parte del compagno d'avventura e di poter vivere un rapporto sentimentale più stabile. Invece, gli atteggiamenti di Dal Moro continuano a metterla in costante difficoltà con il risultato che Marzoli palesa varie insicurezze oltre a continui malumori e perenne insoddisfazione. Nel corso della notte, Oriana Marzoli ha così deciso di confrontarsi con Niccoli in Corvaia. La sudamericana si è sfogata dichiarando alla geffina, non posso svegliarmi tutti i giorni e questo ragazzo non viene a darmi neanche un abbraccio. Io baci glieli do io. La Marzoli ha tenuto a sottolineare come all'inizio la loro relazione fosse ricca di dimostrazioni di affetto ed interesse, andava a dormire il pomeriggio con me. La Marzoli ha tenuto a sottolineare come all'inizio la loro relazione fosse ricca di dimostrazione. Grazie. Grazie. Grazie.